Buongiorno a tutti Michelin, Goodyear, Bridgestone, Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale estivo o con deposito o meglio quattro stagioni? Mmm, oggi il cambio gomme è diventato un quitch Non farti prendere dalla fretta Senti chi le gomme le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione e la convergenza Tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti Località Fragereddu, zona industriale Barisardo Infoline 392 092 90 Fuori gioco, l'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina Ogni lunedì alle 19, fuori gioco 19 e 10 minuti primi Buon pomeriggio amici sportivi di Radio Stella Benvenuti a questo appuntamento settimanale Che si rinnova anzi tutte le settimane Più precisamente tutti i lunedì Dove noi parliamo di sport Sport in generale Si sa che non parliamo solo di calcio Quest'oggi poi dobbiamo affrontare un discorso E' uno sport un po' particolare Ricordo che sono stati fatti anche Delle varie pellicole Sono state girate dei film importantissimi Non so se ricordate Lo spaccone, il colore dei soldi Entrambi interpretati dal grande Paul Newman Nel secondo c'era anche la presenza di un idolo delle ragazzine Che adesso mi sfugge il nome Però ve lo dirò Poi venne fatta anche una pellicola italiana Il regista era Francesco Nutti Il signor 15 palle Che poi questo titolo era anche un pochino Come dire Un pochino particolare Perché mai e poi mai avrei immaginato Che questo film Parlasse di biliardo Però noi di biliardo Per approfondire il discorso Ne parliamo con una persona Con un nostro amico Che è qui sulla mia destra Un nostro collaboratore amico Che abbiamo avuto la fortuna E l'onore di ospitare Al programma domenicale Il nostro programma Che segue le partite di tutta l'Ogliastra Sto parlando di Peddio Del signor Peddio Marcello Peddio Che viene da? Da Vilagrande Buonasera Marcello Buonasera a tutti Ecco questo è Signori per chi non lo conoscesse Il nostro inviato Che seguirà Le partite del Vilagrande Tra l'altro Domenica era assente Perché? Perché era impegnato Era impegnato A gara di biliardo Quindi Non ho potuto presenziare Al campo Allora Noi vogliamo conoscere Questo ambiente L'ambiente del biliardo E' uno sport Sì Sport a tutti gli effetti Viene definito sport Riconosciuto dalla Fibis Federazione Italiana Biliardo Sportivo E anche da alcuni Com'è questa passione Che è venuta A una persona di Vilagrande Cioè uno di Vilagrande Dice Oh Campione Che poi Mi sa che Comunque Com'è venuta questa passione A volte Una cosa Dicevamo Iniziato Prima Con le boccette A mano Ah sì C'era un biliardo Al bar centrale A Vilagrande Che praticamente Era uno stanzino Dove le stecche Non ci stavano Non ci stavano Quindi L'unica cosa Era giocare A boccette Che è una specialità Tra l'altro Sempre riconosciuta Anche questa Sì 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 Questo è gioco All'italiana All'italiana Si può giocare Anche all'italiana Però poi Piano piano Ho provato Con la stecca Mi sono appassionato Diciamo che Ho iniziato A Tortolì Sto parlando Io ho iniziato Nel 91 E ho iniziato Al bar di Lucia Pirroni Sto parlando Negli anni 95 96 Poi piano piano Ovviamente Hai imparato Quindi Hai imparato A giocare a biliardo A Tortolì Sì Con quella che Pratico Con la Diciamo Con la specialità Attuale Che pratico A oggi Sì con la stecca Iniziata a Tortolì Poi piano piano Ho frequentato Le sale a Cagliari Perché mia moglie Studiava a Cagliari E quindi io Quando andavo giù a Cagliari Magari lei era impegnata Tanto che lei dava gli esami Esatto Magari la domenica Era impegnata Perché doveva studiare Per un esame Allora io Andavo per le sale A Cagliari E ho fatto anche Diversi anni Tesserato Per le squadre di Cagliari Diciamo che Biliardisticamente Parlando Sono cresciuto a Cagliari Ho frequentato Giocatori più forti Della Sardegna E era lì Via via Poi ho iniziato A fare qualche gara E a migliorarmi E poi è nata la passione E ancora oggi E ancora oggi E ancora oggi Giochiamo al biliardo A che età Dovrebbe iniziare uno A giocare al biliardo? Ma anche a 13-14 anni A 13-14 anni Si possono iniziare a dare A dare le prime Come si chiama? Diciamo che si potrebbe Anche già tesserare A 13-14 anni Si può iniziare A già col tesseramento Praticamente A 13 anni Sarebbe una categoria Unioras Fino al 21esimo anno Rientra la categoria Unioras Poi da lì Piano piano Si sale di categoria Unioras Poi si va Terza categoria Però per passare Di categoria Dovresti fare Delle gare In base ai risultati Si sale di categoria Ho capito E qua in zona Ci sono? Allora A Villa Grande Siamo un gruppo Di 13 giocatori 13 giocatori Che praticamente Gestiamo una sala Biliardi Che siamo un gruppo Abbastanza affiattato Anche Però Di questi 13 Un 6 o 7 Frequentiamo Le Diciamo Pratichiamo le gare A livello regionale Provinciali E regionali E dove si svolgono Poi i tornei In genere? Allora Le gare regionali Solitamente Tra Cagliari Sassari Calangianus Carbonia Iglesias Siamo un po' Per noi Siamo sempre in trasferta Perché da noi La nostra sala Detiene 4 biliardi E quindi Oltre il provinciale Non si può fare Perché Non abbiamo Biliardi Con 4 biliardi Possiamo fare Una gara Non si può fare Un torneo Che a livello regionale Inizia A livello regionale No perché Con i numeri Non riusciamo A sopperire Sì no ma dico Anche fare Che so Qua C'è Una parte Si svolge Qua un'altra Sassari Poi magari Le finale Sì prima C'era questa Formula Potevi disputare La garetta Che ne so La qualificazione In locco Provinciale E poi Andare a fare Le fasi finali A Cagliari Sassari Però Oggi Il comitato regionale Sta studiando Per riprendere Questa formula Perché a noi Ci eviterebbe Le trasferte Perché ogni volta Siamo in trasferte Quindi il fatto Di fare anche La qualificazione Magari Nel posto Esatto Anche Dal punto di vista Economico Sorte di risparmio A proposito E' uno sport Che costa E' costoso Costa Perché comunque Adesso a parte La divisa Perché ho visto Diverse foto Anche tu Da cameriere Sembrate i camerieri Ma quelli poi Però Diciamo che Quella ce la impone La federazione E' un regolamento Che si deve rispettare La divisa Deve essere Ma è anche Una cosa bella Io vedo ogni tanto Sui canali televisivi Ci sono dei canali Televisivi specializzati Vedo che Non è una cosa Il giocatore da bar Dove vai No Di là proprio C'è l'eleganza Sì sì E poi Ci sono anche Delle regole Da rispettare Non puoi avere Le calze bianche Per dirne una Escutivamente scura O nera o blu Il pantalone Deve essere O nero o blu Non puoi utilizzare Un pantalone Diciamo Tipo jeans Anche se è scuro Però Deve avere Un pantalone classico Deve essere elegante Elegante Perché in effetti Il calzino bianco Pare Esatto Non sia una La scarpa Escutivamente nera Il gilet Ecco il gilet Per dire Si può Anche mettere Un gilet di fantasia La camicia La camicia deve essere Tinta unita Non c'è colore Non c'è colore Puoi usare Qualsiasi colore Però deve essere Tinta unita Comunque Pantalone blu Calza scura Calza scura Scarpa Anche le scarpe Poi dalla vita in su Invece Un pochino più Però tinta unica Poi c'è da dire anche Che se vai in tv Perché io ormai Ho praticato Il campanato italiano Per diversi anni A Saint Vincent Dove magari Per sorteggio Si può capitare Anche su Un bianco televisivo Lì addirittura C'è l'obbligo O del papillon O della gravata Altrimenti Non ci si può presentare Su un bianco televisivo Questa è proprio Una regola Fissa Un sport elegante Sì sì Un sport Abbastanza elegante Allora Ho avuto un messaggio Dalla regia Ci dobbiamo Interrompere Per qualche minuto E ci sentiamo Tra poco Fuori gioco L'appuntamento sportivo Del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì Alle 19 Fuori gioco Michelin Godier Bridgestone Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale Estivo o con deposito O meglio Quattro stagioni? Oggi il cambio gomme È diventato un quiz Non farti prendere Dalla fretta Senti che le gomme Le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione E la convergenza Tutti i servizi Per scooter Trattori E mezzi pesanti Località Fra Gerettu Zona industriale Barisardo Infoline 392-092-092-90-05 Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì Alle 19 Fuori gioco Eccoci nuovamente insieme Sono le 19-20 minuti Siamo sempre in compagnia Di Marcello Piediu Un campione Posso dire un campione Posso usare questo termine Un campione di biliardo A proposito di campione Voi mi stai dicendo Che fate dei tornei Diversi tornei Sei campione di qualcosa Hai vinto qualche torneo Capata provinciale L'ho vinto Sei volte con le seconde categorie A livello provinciale C'è stato un anno Che l'ho vinto addirittura A livello regionale Perché prima le formule Erano diverse Nel senso che Le selezioni per i capatani Era a livello regionale Quindi dovevi confrontarti Anche con le realtà Di Cagliari Sassari E lì ho vinto Il mio campionato Di seconda categoria Tra l'altro A San Venzano Anche ottenendo Un ottimo risultato Perché sono entrato Nei 32 San Venzano San Venzano San Venzano Ormai è Il clou È l'ombelico Sì 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 È un'età fissa Dove si disponono Tutti i campionati Per categorie Campionato italiano Chi vince Della sua categoria Diventa campione italiano Di prima Di seconda E lì ti devi confrontare Con realtà Completamente diverse Perché comunque Hanno altra scuola E lì ci sono Professionisti È un altro Un altro mondo Diciamo Quanti titoli Al momento Siamo fermi A nove No Ne manca uno Come Rossi Me ne manca uno Per arrivare al decimo Come Rossi Come Rossi Però Rossi si è ritirato Io ancora Ce n'è tempo Fino a Finché tiene Finché tiene Ma cosa deve tenere Per Fisicamente Deve tenere Le gambe La vista La vista E poi la centralina Possibilmente È un gioco Dove veramente Si studia A parte Poi che dovresti Essere bravo In geometria Geometria La fa da padrone Perché Non tutti sanno Che al biliardo Non so se Se hai presente Un biliardo Dove ci sono I diamanti Noi li chiamiamo Diamanti I puntini Che soffrastano La sponda Del biliardo Che lì Sono i numeri I numeri Che praticamente Utilizziamo Quando dobbiamo Fare un tiro di sponda Dove c'è un calcolo Matematico Per poter Prendere la Non è che uno Dice Prendo la Io sono convinto Che se batte là Poi arriva All'altra parte A occhio Non funziona Non funziona Non funziona 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 Io ancora oggi Utilizzo il sistema Però talmente A forza di giocare Poi dopo Viene più Comanda più l'istinto Ma non è detto Che non è contato Il tiro è sempre Il conteggio si fa sempre Però è talmente veloce Che alla fine Diventa meccanico A forza di giocare Però Siccome io sono Anche un istruttore federale Istruttore? Istruttore federale Quindi Poi dopo Ti facciamo lanciare Un appello Esatto Insegno anche Ai ragazzi Fino a un paio D'anni fa Purtroppo poi Con la pandemia Insegnavo all'oratorio Alla chiesa San Gabriele A Villa Grande Sono riuscito a convincere Molti partecipanti Cioè c'erano molti ragazzini Sì sì Avevo un gruppetto Di ragazzini Sperando di riprendere Pandemia permettendo Di riprendere E insegnare i ragazzi E da lì Devi partire proprio Dai fondamentali Sistemi Numeri Diciamo che il ragazzino Quando si presenta Vuole giocare Se vai sullo specifico La teoria Potrebbe essere bella Però per un ragazzino È un po' pesante Quindi Quindi ci sono Bisogna andare per i gradini Stecca Un po' come il liscio Nel calcio Oppure Come si può definire Quando prendi il pallone Si prende male A volte no Non proprio così Non lo so Comunque Si o meno Si è stato abbastanza La staccaccia è un tiraccia Sì sì Il regolamento del biliardo È un fallo È proprio un fallo Ah cioè Non è che comporta solo il fatto Che la pallina va Dove gli pari Quando si fa Hai anche una penalizzazione Sì sì È proprio fallo Fallo vuol dire Che se io sto tirando E faccio staccaccia Sì Equivale due punti All'avversario E la palla E la biglia libera Per l'avversario Per l'avversario Ah Buono Quindi il gesso Non deve mancare mai A ogni tiro Diciamo che Si fa il gesso Dove esti Ma si Si fa sempre Perché c'è bisogno Oppure si fa sempre Per sicurezza Non si fa mai Per sicurezza Sempre Sempre Però c'è anche il bisogno Del gesso Certo Calma e gesso Ecco questo termine Calma e gesso Perché effettivamente Ci vuole molta calma Quando giochi a biliardo Vero Poi Ieri Io ero impegnato A questa gara Che La posta in palio Era anche abbastanza alta Purtroppo Non sono riuscito Abbiamo fatto Ho giocato con un ragazzo Di Nuoro Che So che non mi sta ascoltando Però Li faccio complimenti in diretta Perché è stato veramente Bravo Io purtroppo Ho commesso qualche errore Di troppo Come in ogni sport Ci sono le vittorie Le sconfitte Però Io so del parere Una perché Ho fatto dieci E la mia biglia Non sono riuscito a controllarla L'unico brillo Che è rimasto in piedi L'ha buttato la mia Quindi gli ho regalato La partita Beh Essendo Essendo la posta in palio alta Poi Quando si subiscono Questi Regalare una partita Fare poi la bella A livello Perché biliardo È molto psicologico Sono riuscito Nonostante Avesse fatto l'errore Per andare sul 2 a 0 La bella L'ho giocata Benissimo Però l'avversario È stato più bravo E beh C'è sempre qualcuno Più forte Bisogna dare meriti Anche a chi vince Certo Quanti tipi di gioco Esistono nel biliardo Cioè voglio dire Ci saranno Specialità Ce ne sono diverse Specialità Quelle che pratico Sono 5 brilli E 9 brilli 5 e 9 Poi c'è Vabbè La boccetta E poi c'è anche La carambola Carambola Praticamente Brilli Non ce ne sono Si gioca con 3 biglie Si tira su una biglia Poi l'altra biglia Deve fare 3 sponde E prendere l'altra biglia Ho capito Però io attualmente Pratico 5 brilli E 9 brilli Ah ecco Quindi Vengono definiti Proprio così C'è il 5 brilli E il 9 brilli 9 brilli Che è detto anche Goriziana Goriziana Ah Quindi hanno dei nomi Particolari Allora Siccome il tempo stringe Stavo pensando Prova a lanciare un appello Adesso magari Visto che sei Anche insegnante Di biliardo E il motivo Dovresti riuscire a motivare Un ragazzino Per dire Senti vieni Impara a giocare il biliardo Perché? Quanto meno provare E beh certo Perché non è che viviamo solo di calcio O solo di tennis O solo di basket Biliardo è un bello sport Ti apre la mente Ecco queste cose Ti tiene fuori da altre cose Io invito i giovani Ad avvicinarsi a questo sport Perché è un bellissimo sport Dovrebbe provare Per cui Cosa importante È un gioco intelligente Intelligente Non c'è il caos Che c'è negli stadi Esatto Non si può fumare Ah ecco Poi c'è anche questo Non si può fumare Ah beh il pubblico Adesso attualmente Si gioca a porte chiuse Via pandemia Non c'è pubblico Però è scatenato il pubblico in genere Cioè voglio dire Scappa la placa Oppure deve essere silenzio Si fa così O così o si batte le mani Ah Questo è un segno di complimento Su un bel tiro Ah Quindi comunque è come andare a vedere Una partita a tennis Molto silenzio Esatto Perché comunque Chi gioca a biliardo Ha bisogno di concentrazione Quindi ha bisogno di silenzio E questo è tutto quanto È bello Però i giovani Anche perché non c'è cambio generazionale Almeno io parlo a livello Sardegna Siamo sempre i soliti L'età media è dai 30 anni in su Peccato Però mancano i giovani Poi manca la categoria femminile Ah ecco Poi questo è importante Perché c'è anche il biliardo in rosa Certo In Sardegna adesso ne abbiamo 5 o 6 Che praticano Che praticano il biliardo Che praticano il biliardo E quando giochiamo in Coppa Sardegna Sono sempre inserite Nell'ambiente maschile diciamo Ho capito E poi c'è una categoria I campi dati italiani C'è anche la categoria femminile Dove si disputano i campi dati italiani femminili Solo femminili Cioè è un torneo misto? Cioè esiste? Sì sì Si può fare Coppa Sardegna Noi quando giochiamo in Coppa Sardegna Come si possono definire Le signorine Le signore Possono giocare tranquillamente con noi Un'altra cosa L'ultima cosa Poi magari ci salutiamo Dove bisogna rivolgersi Se effettivamente Eventualmente ci fosse qualche ascoltatore All'ascolto Che volesse imparare a giocare a biliardo Può rivolgersi magari a Marcello Piedio Che ci darà Sì sì certo Avete una sede a Villa Grande Sì sì abbiamo una sala a biliardi Dove posso tranquillamente O ci passa Oppure si trova in una rivista C'è della pubblicità da qualche parte Sì sì io ho fatto anche manifesti Anche al bar Tortolino ne ho portato Però adesso Visto che abbiamo avuto l'occasione Di venire in radio Magari metteremo i manifesti anche a Tortolì Se poi qualcuno è disposto a E poi magari A provare l'avventura del biliardo Siamo a disposizione E poi magari Marcello riuscirà anche A dirlo durante le nostre dirette Della domenica Esatto Farò l'invito anche sulla diretta Domenicale va benissimo Bene Marcello Siamo ormai alle 19.30 Scoccato il momento di lasciarci Dei saluti Speriamo di rivederci Certo Noi sì sicuramente Con i risultati positivi Per le squadre Oliastrino Noi salutiamo Marcello Pediu Che ci ha regalato questi Questi momenti di Passione per il biliardo Magari ci sentiremo presto Grazie Grazie mille Buonasera a tutti Buonasera Da Marcello Pediu Lì nella regia Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Oliastrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Michelin Goodyear Bridgestone Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale estivo Con deposito O meglio quattro stagioni? Mmm Oggi il cambio gomme È diventato un quic Non farti prendere dalla fretta Senti chi le gomme Le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione Nella convergenza Tutti i servizi per scooter Trattori e mezzi pesanti Località Fra Gerettu Zona industriale Barisardo Infoline 392 092 90 05 Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Oliastrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco La 1 Eccoci nuovamente insieme Siamo alle 19.22 minuti primi Rientrati velocissimi Questa sera Programma che va spedito Come lo sport In effetti Bisogna essere grintosi Come dicevamo in apertura Generalmente ci Il lunedì Dedichiamo questo spazio Molto al calcio Invece oggi è una giornata Particolare È una giornata particolare Dove abbiamo deciso Anche perché Generalmente il calcio Essendo lo sport nazionale Per eccellenza Lo si mette sempre in prima linea Oggi lo lasciamo per ultimo Perché ci saranno anche Delle sorprese E parliamo ancora di un altro sport Uno sport che qua viene praticato Però Ce ne parla Anzi è considerato Prima volevo aprire in una maniera diversa Pensando che Viene definito come lo sport completo Per eccellenza Nel senso che ti forma fisicamente Chi pratica questo sport Ho notato indipendentemente Che sia maschio o femmina Ho notato che Hanno un fisico statuario quasi Ben delineato Ben formato Indovinate di cosa sto parlando Sto parlando di nuoto E a parlarci di nuoto Oggi abbiamo invitato In studio Un signore dal nome Tonino Vitiello Buonasera signor Tonino Ciao Gianni Buonasera Tutto bene? Tutto bene Tutto bene Sono appena uscito dall'acqua E Sono abbastanza provato Perché Faccio degli allenamenti Io mi preparo Faccio le gare A livello agonistico Master Per cui partecipo ai tornei Sia regionali Che nazionali Sia in vasca Che in acqui libere Quest'anno Ho avuto dei buoni riconoscimenti Nonostante che eravamo due anni fermi Per cui sono arrivato al podio Nel mezzofondo Nel meglio sprint A livello di acqui libere E dunque sono molto soddisfatto Ora in piscina abbiamo iniziato Quelle poche gare E sono sempre andato al podio Sono andato abbastanza bene Ho capito Stavo pensando Tonino Vitiello Questo cognome non è puramente Puro al 100% O gliastrino E nemmeno sardo Da dove origini Immagino Essendo di Arbatax Ponzesi Ponzesi È arrivato qui Diciamo Negli anni 40 Magari era un pescatore Era un piccolo pescatore La prima volta è venuto Aveva 7 anni Perché a quei tempi Insomma Periodo della guerra C'era molta povertà Per cui da piccolino Bisognava Dare una mano alla famiglia Ecco Lui da piccolino Si è imbarcato È venuto qui Per fare la pesca Alle Aragoste Poi era ritornata a Ponze È ritornato qui All'età di 9 anni Ed è rimasto stabile qua Poi Ha trovato donna Ha conosciuto mia nonna Che era originaria di Baunei Ah Adesso sto iniziando a fare E dunque Sono praticamente Per tre nonni di Baunei È un nonno ponzese Poi mia mamma Anche lei è di Baunei Però sono sempre Diciamo che Mio padre è nato ad Arbatax Io sono nato ad Arbatax Ma la passione Diciamo Proprio di mare Del mare Sì beh certo Poi Ce l'abbiamo nel sangue Questo connubio Ponza Baunei Che poi Baunei Si sa Perfetto Perfetto Fanno delle gare Ti dico Quest'anno Faranno altre gare nuove Ma fino a quest'anno Delle gare bellissime Nello scenario Gliastrino Noi abbiamo delle Delle coste Spettacolari Ah ma il mare Stiamo parlando di mare Stiamo parlando di mare Sì Ah non in piscina Acque libere Acque libere Qui c'è la gara Di Pedralonga Santa Maria Poi c'è quella Di Santa Maria Pura Di fronte Alla torre Del miglio sprint Della mezzofondo Poi abbiamo Quella che fanno A CEA Poi hanno fatto Anche la swim run Da Santa Maria Pedralonga In ritorno Corsa in nuoto Delle cose bellissime Molto belle Sì Quanti Queste Queste corse Queste gare Quanto sono lunghe? Allora ci sono delle specialità Che vanno Dal fondo Che parte da 5 km Il mezzofondo Da 3 a 4,5 E poi il miglio sprint Che sono 1.856 metri Da fare È bello tirato È bello tirato Sì sì Sono gare Più che altro Per veloci Per più veloci Ecco Mentre Mentre a me piace Nuotare in piscina Cioè Io lo faccio Di ripiego al mare Perché È bello Nuotare Nel nostro mare È bellissimo Nel blu È bellissimo Però la mia specialità Penso che sia Più in piscina Io nuoto Più che altro A delfino È molto misto Ci sono vari stili Stavo pensando a questo Sì sì La mia specialità Cerco sempre Per esempio Fra due settimane Ci saranno i campionati regionali E la mia preparazione In piscina Che parte da settembre E finisce In primavera Quando iniziamo a fare Le acque libere Sono mirate A partecipare Al campionato regionale Dove io Vorrei fare bene Nei 50 delfino E nei 100 delfino Ah quindi Si partecipa Allora Abbiamo parlato Di mare E di piscine Piscine attrezzate In zona Ce ne sono tante Allora Piscine attrezzate C'è quella di Loceri Dove attualmente Mi sto allenando Che è una piscina Di 25 metri Si chiamano Piscine olimpioniche Sì Diciamo che adesso Prima si parlava Di piscine olimpioniche A partire da 50 metri Ora invece È stato riconosciuto Anche quella da 25 Per cui ci sono Delle gare Che vengono riconosciute In vasca corta Si chiama Da 25 Un'altra curiosità mia Si Però volevo dire Poi c'è anche la piscina Lozzorai Ah ecco Che è leggermente più corta Però è bellissima Perché Per me è comoda E di ripiego Perché ce l'ho vicino Certo E sia negli uni Che negli altri Lo devo dire per correttezza Sono delle persone Spettacolari Sì sì Conosco Uno dei titolari Dei gestori Di quella di Lozzorai Che saluto Ciao Giampiero Ciao Giampiero Altra domanda A proposito di C'è qualche società Di nuoto qua Oppure siete così Allora La società qui di nuoto È nata È stata sciolta Perché poi Per varie vicissitudini Avevamo una bellissima piscina Qui a Tortoli Però Per varie vicissitudini Ripeto È andato tutto A morire La società che c'era qui Si è fermata Abbiamo tirato su Dei bei ragazzi Dei giovani Che si sono Diciamo Fatti Fatti notare Anche a livello nazionale Ragazzi e ragazze Molto bravi Tuttora Due nuotano ancora E Di questo Sono molto soddisfatto Perché anche io Ho contribuito A questa cosa Essendo Un istruttore di base Quindi volevo Infatti volevo chiedere Ho fatto anche L'istruttore di base Sì Cioè L'istruttore di base Per L'istruttore di base È quello che ti insegna L'ABC E ti porta fino A dare in mano Una persona Un individuo Un'atleta Al preparatore agonistico Ecco Poi c'è il preparatore agonistico Che ti tempra E ti forma Per fare l'agonismo Ok Cioè Io non ho le basi Per lo meno Non ho i titoli Per poter accedere In una vasca Come preparatore agonistico Ecco Soprattutto Io insegno ai piccoli E grandi Mi dicono No grazie Che è trasmesso A mio figlio Non diventerà un campione Però Gli è trasmesso La passione Cioè lui va tranquillo Al mano Uno deve andare Tranquillo al mano Non deve vedere Come un Un pericolo Deve avere rispetto Però Deve avere passione Cioè Quando uno inizia A nuotare Non galleggiare Ma a nuotare È come volare È bellissimo Certo Cioè Delle sensazioni Proprio molto belle Allora Ci fermiamo un attimo E diamo la parola Alla regia Perché abbiamo Un sacco di cose Da dirci ancora Ok Pubblicità Fuori gioco L'appuntamento sportivo Del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì Alle 19 Fuori gioco Michelin Godier Bridgestone Yokohama Qual è scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale Estivo o con deposito O meglio Quattro stagioni? Mmm Oggi il cambio gomme È diventato un quic Non farti prendere Dalla fretta Senti chi le gomme Le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione E la convergenza Tutti i servizi Per scooter Trattori E mezzi pesanti Località Fra Gerettu Zona industriale Barisardo Infoline 392 092 90 05 Fuori gioco L'appuntamento Sportivo del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Ogliastrina Ogni lunedì Alle 19 Fuori gioco Eccoci nuovamente insieme Siamo in compagnia Di Tonino Vittiello Una persona che È uno sportivo Adesso mentre c'era Questo piccolo break Pubblicitario Si parlava Del fatto che Ci eravamo visti Altre volte Lui pensate Si occupa Ogni età Pratica Anche la bicicletta Bicicletta da montagna Comunque torniamo al nuoto Dicevamo Che c'è questa grande passione Volevo sapere Volevo capire È più difficoltoso Fare nuoto Al mare O in acqua dolce Allora Mi spiegavano qualcosa Quando ero ragazzino Naturalmente Adesso tu mi fai una domanda Da una persona Che non si è molto Addentro ai lavori Beh certo Io ti parlo dal punto di vista Agonistico Perché io faccio agonismo È nuotare Agonisticamente Quando andiamo nel mare Facciamo lunghi tratti Per cui devi Migliorare Delle capacità Che sono totalmente diverse Nella piscina Nella piscina Noi abbiamo una linea sul fondo Testa bassa Quando la linea arriva A essere tagliata C'hai due metri Per fare la virata Oppure c'hai l'arrivo Per cui Calcoli che Su quel T C'hai mezza bracciata Oppure dal T Ti agganci Per poi fare la virata O l'arrivo Ok Quando sei al mare Cambiano gli appoggi Ti devi sollevare Devi avere Un punto di riferimento Se sei bravo Ti riesci a sollevarti Riesci a vedere la boa Riesci a vedere la seconda boa Riesci a prenderti delle mire Perché non sempre C'hai una boa Ogni 100 metri Magari a 500 metri Ce l'hai 800 metri Non è che la vedi facilmente Quando c'è il mare mosso E nuoti contro vento Gli schizzi Ti devi proprio sollevare Proprio dall'acqua E cercare di guardare avanti Per cui devi affinare Queste capacità Dal punto di vista agonistico Forse è più difficile Per me nel mare Perché poi sono lunghi tratti È come se uno nuota La maratona o i 100 metri A me piace nuotare I 100 metri piani Sono più un velocista Che non Mi piace fare il tuffo Mi piace fare la virata Ecco Questo è la mia Me lo sento proprio Cioè non devo mancare Una gara in piscina Mentre al mare Sono dei circuiti Che li faccio Per Li vivo come una giornata Di divertimento Di associazione Con tanti amici Che vengono da Sassarese Dall'Olbiese Da Cagliari Dal continente Qua in zona gare Ce ne stanno Ce ne fanno A parte adesso Io parlo di piscina Allora Una delle zone più battute Come gare È proprio l'Oliastra E vengono volentieri Gli amici di Cagliari E di Sassare Però stai parlando di mare Di mare Sì No in piscina assolutamente Non siamo strutturati Per avere Ma anche a livello regionale Attenzione Le facciamo solo A Cagliari Al Terramaini Perché ha una Poi con la storia Del covid Ha una bella gradinata C'è degli spugliatoi Poi adesso Non parliamo di covid Perché Sì beh poi col covid È tutto saltato Questo periodo del covid Invece l'atleta in sé Tipo Nino Vittiello Cosa faceva? Si poteva allenare Perché Allora io due anni fa Per ripiegare Al discorso di piscina Che erano chiuse Mi sono comprato Una muta Da gara Diciamo Ah ci sono le mutte da gara? Si sono specializzate Proprio Hanno una diversa densità Sono fatte In un certo modo Che sono diverse Da quelle del triathlon Da quelle del duathlon Da quelle del pentathlon Sono proprio Per nuotare al mare Per nuotare al mare Si E sono andato a nuotare al mare Io in vita mia A 56 anni Ho nuotato Hai 56 anni? Io ora devo fare 59 Regia potete mandarmi Nuovamente la foto Perché Si va bene Insomma dai Si va bene Questa è fatta Ah è da tanto? Non è reggentissima Sarà un quattro anni fa Tre quattro anni fa Ecco quando io parlavo Dicevo di fisici Ecco cosa porta il nuoto Oltre al divertimento E' bellissimo Perché Non mi risparmio Per cui Allora Io sono iscritto A una società Ora di Cagliari Perché qui non c'era Una società Mi hanno accolto In questa società Che tra l'altro Mi hanno detto Che è la serie A Del nuoto di Cagliari Che è l'Atlantide L'Atlantide di Elmas Il mio allenatore Corrado Sorrentino E' un atleta A livello nazionale Anche di più Ha fatto dei record Europei Bravissimo Un grandissimo Preparatore atletico Saluto Ciao Corrado Buonasera Corrado E niente Sono fortunato Perché Lui mi segue Anche se a distanza Con tutta La tabella Degli allenamenti Chiacchieriamo Ci scambiamo Degli opinioni Delle cose Quando posso Vado a Elmas A nuotare insieme Con gli amici Della squadra E lì E' una cosa bellissima Molto bello Bello Quindi Fino a che età Si può portare avanti Questo tipo di attività Allora io Io quando ho fatto Una volta ho fatto I campionati mondiali A Riccione Di Master Nuoto E questo signor Allora una signora Aveva nuotato Durante la seconda guerra mondiale Una giapponese Lei era stata Una nuotatrice olimpica Nella seconda guerra mondiale E sto parlando Di una decina D'anni fa E questa qui Aveva più di 90 anni Cioè era Una signora A vederla E dici E dici ma E' una cosa bellissima Della serie Dovendo fare Uno slogan Da un pubblicitario Questa signora Si è fatto 100 metri stile E' stata accompagnata Entrata Non ha fatto il tuffo Certo Cioè sono cose Che dici Porca mille anni Cioè io A 56 anni Non avrei mai immaginato Né di nuotare A dicembre A gennaio A febbraio Ma neanche di ricoprire Distanze come 7 chilometri 10 chilometri Ma non Ma non se Diciamo 5 chilometri Nuotati così No Nuotati per arrivare Al polio Cioè Capito Certo Non è come quando Mi butto io in acqua Fai 20 metri E poi Non lo so come nuoti Ma appunto Cioè io non nuoto Un pochino galleggio Questo sì Quindi Uno slogan Perché poi Vabbè avrei dovuto Chiedere alla fine O comunque Potrebbe essere Quello Iscriviti a nuoto E avrai un fisico Campi 100 anni Insomma Una cosa del genere Magari il fisico Ci vuole un po' di impegno Ma che tranquillo Ma che tranquillo Che se Se nuoti con questi ritmi Come nuotavamo noi Come nuotiamo I master E I risultati Si vedono Si vedono Anche perché Hai un riscontro Dal punto di vista fisico Sulle prestanze Sul lavoro Ma anche io ho visto Nella mia esperienza Quasi tutti I bambini Ragazzini Cioè i giovani Che nuotavano A un certo livello Erano tutti bravi a scuola Chissà perché Non lo so Cioè Non c'era Forse non c'è Un nesso Però la maggior parte 9 su 10 Erano bravi in piscina Si impegnavano Magari non diventavano Campioni nazionali Però Magari non potevano Anche non diventare Dottori Però Però erano Molto bravi a scuola Cioè Riuscivano a studiare Scuola Lavoro A quell'ora Rientravano a casa Perché erano stanchi Sfiniti Certo Ci credo Li sfinivamo I genitori contentissimi Perché Tornavano a casa Cenavano Boom A letto Lì domani a scuola Come i grilli Una carica Beh sì Perché effettivamente Il fisico Si adopera Cioè Viene usato In tutte le sue parti È completissimo Dal punto di vista Sì Effettivamente è così E come testa? Come testa Guarda Cioè Quando si usa L'intelligenza Forse uno Non riesce a capire Però Se tu nuoti Agonista Ogni 10 secondi Stai facendo Un check up Di tutto Praticamente Un check up Di tutto Quello che avviene Nel tuo corpo Cioè Se io voglio Voglio andare Voglio vincere Voglio viaggiare Sto pensando Come mettere la mano La mano è così Deve mettere Un po' più a paletta Devo affondare Non sto scivolando Stanno abbassando i piedi Alza i piedi Batti i piedi Le vasche Quante sono? Ne devo fare 40 Ne ho fatto Le devo contare Sì Beh certo Perché Quindi ti è impegnato Anche mentalmente Mentalmente È un lavoro continuo Di Naturalmente Stiamo parlando A livello agonistico Stiamo parlando Di farci una vaschetta A proposito La vasca Io come vasca Intendevo Quando facevano Le passeggiate Da ragazzini È riferita a quello Una vasca Abbiamo detto 25 metri 25 metri Inteso Andate e ritorno 25 metri E andare E 25 metri E una vasca Per cui ogni volta Che l'allenatore Ti dice Devi fare Un 50 misto Devi fare Un 100 stile In progressione Sono 4 vasche Per cui Vai in progressione 100 stile In progressione Parti con un ritmo La prima vasca La seconda vasca Aumenti poco a poco La terza vasca Aumenti poco a poco La quarta Te la fai al massimo Non devi lasciare Niente a casa Devi lasciare Tutto lì Ho capito E bisogna pensarci Ultima cosa Un appello Per chi vuole Praticare Questo sport Cosa potrebbe fare Qua? Io credo Che qua Purtroppo Abbiamo solo Due piscine I gestori Si impegnano Molto Sono molto gentili Sono molto preparati Abbiamo Dei buoni Istruttori Diciamo Di base E anche Qualche allenatore Diciamo Che può Avviare Diciamo L'agonismo Naturalmente Per fare l'agonismo Ci vuole una squadra Devi essere supportato Da una squadra Perché un solo elemento Non riesce Con i costi A portare avanti Questo ragionamento E al mare Possiamo fare Lo stesso bene Ci sono diverse scuole Io Quello che Che posso invitare È Andare a vedere Andare a vedere Questi bambini Che nuotano Perché un bambino Che nuota Dici No Ma è troppo bello Un orologio Vedo questo bambino Che va da quella boeta Quell'altra boeta Si fa le sue respirazioni Respira a destra Respira a sinistra Con la testa sott'acqua E esce contento Dall'allenamento Magari non vuole più uscire dall'acqua Come succede E non è proprio così Perché Quando mi capitano sotto mano Li faccio Li faccio lavorare Però sono contenti Sono veramente E io sono contento Perché per me Insegnare a un bambino Insegnare Anche a un adulto Che aveva paura Levargli la paura Trasmettili la passione Per me è una medaglia È una medaglia Bene Abbiamo così conosciuto Il nostro amico Tonino Vittiello Un esperto Un praticante di nuoto Come abbiamo già detto Di bicicletta Magari non è detto Che prossimamente Invertiremo qua A parlarci di mountain bike Perché Magari Noi Vogliamo far conoscere Un po' gli sport Tutta l'ogliastra Mi auguro Che siate stati soddisfatti Dalle vostre curiosità Perché io quando Quando si invitano Queste persone Più delle volte Come si dice Non è che Capiscattute Che conosca La perfezione Gli sport Per cui Essendo anche Un pochino curioso Spero di aver dato Una mano A chi Aveva bisogno Di conoscere Il nuoto Questa sera Grazie ancora Tonino Vittiello Noi Magari ci risentiremo Presto Grazie Grazie Gianni Grazie Radio Stella Di dare spazio Anche a questa disciplina Che a livello nazionale Sta dando Degli ultimi risultati Non c'è sponsor migliore Diciamo di questa propaganda positiva Di questi nazionali Grazie Grazie Pubblicità Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Michelin Godier Bridgestone Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale Estivo o con deposito O meglio Quattro stagioni? Oggi il cambio gomme È diventato un quiz Non farti prendere dalla fretta Senti chi le gomme Le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione e la convergenza Tutti i servizi per scooter Trattori e mezzi pesanti Località Fragereddu Zona industriale Barisardo Infoline 392 092 90 05 Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti Della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Eccoci Mancano due minuti alle 19 Siamo sempre su Radio Stella Per la precisione Per l'esattezza Siete sul programma sportivo Più ascoltato Più seguito D'Ogliastra Facciamo per vantarci Che dire Adesso entreremo in quell'angolino Un po' particolare Parleremo di calcio Ovviamente Il calcio Come già detto Anche oggi In trasmissione È lo sport Italiano Lo sport Per eccellenza Dove Dappertutto Si parla di sport Voi Andate Che ne so In piscina Magari state seguendo Una gara di piscina Però ogni tanto La battutina sul calcio La fate Mi sa che Abbiamo anche Il nostro angolo Come dicevo Anche al bar Tu vai al bar Al bancone del bar Incontri gli amici Oppure Siete da tavolino Parli di quello Che è successo La domenica Nei campi sportivi Parli del derby Che c'è stato Tra Milano e Inter Parli del derby Che c'è stato Che è in so Tra Tortoli e Lanusei Piuttosto che Ancora non è possibile Però Si farà Si farà Penso che abbiamo In collegamento Una persona Che È dal bar Stella Abbiamo questo bar Questo locale nuovo Un locale dove Si parla di calcio E sentiamo Chi abbiamo Ci siamo collegati Telefonicamente Con questo locale Che si chiama Bar Stella Pronto Buon pomeriggio Gianni Buonasera Chi parla Io sono Matteo Matteo Corona Matteo Corona Dal bar Stella Il nostro piccolo Angolino In cui ci piace Interlopire con voi Ecco Perfetto Non sei solo Non sei solo Matteo Eh no C'è il mio socio C'è il tuo socio Perché non viaggi mai da solo Siete di fronte Vorrei 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 dire una cosa Matteo È arrivato in ritardo Perché stavo ancora Segnando i marcatori Di Canonau Iersu Barussardo Appena finito Questo Questo è Ale Usai Che sta parlando Vero? Perché io Ecco Quindi Ho capito Insomma Ale Usai Che cosa Ci stai mettendo Un po' di peperoncino Sulla ferita? No Non vorrei mai No 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 È proprio Perché è vero Ha avuto Tanto da fare Ieri Matteo Al Tecogni Per insegnare Tutti i marcatori Del barissardo Eh beh sì La capulita Del giro di C C'era bisogno Del pallottoliere È stata È stata Una domenica Viste dal punto Di vista Calcistico Per lo Iersu Per gli amici Di Iersu Però Secondo me Da questa partita Ragazzi Trarranno Una bella lezione Tipo Spiegaci Spiegaci Quella che bisogna Sempre mettere Il cuore In campo Sì Perché io Ho visto una squadra Che nonostante Fosse Inferiore Tecnicamente All'avversario L'ha dato L'anima Soprattutto nel secondo Tempo Ho visto persone Che correzono Persone che Magari Si davano una mano All'altra Non si sono Abbattuti Insomma Ho visto Dagli spalti Perenne Sostegno Bello Non ho sentito Un fischio Non ho sentito Un urlo Ho sentito Solo incoraggiamenti Questo mi fa Ben sperare Bello Bel discorso Commovente Da parte di Matteo Mi sono Meglio commosso Tu Ale Invece Come vedi La cosa Come vedi La situazione Faccio Il riepilogo Il girone C Sì È segnato Io penso Che il Barizzardo Stia facendo Un campionato A sé È a più 12 Dal secondo posto Occupato Dallo Voda Tra due domeniche Ci sarà Un Voda Il Barizzardo E io penso E io penso Che lì Potrebbe decidere Già Il campionato E il girone di ritorno È più iniziato Secondo me Il divario È troppo grande Non ho capito Scusa Il divario È troppo grande Della roba Del Barizzardo È categoria superiore Ma diciamo Che ormai Il campionato Si sta facendo Per il secondo posto Dai Sì esattamente Ma penso Diciamo che Anche tra gli Ogli aspini Magari ci sarà Un campionato A parte Per Quale sarà Gli aspini Di fare Prima Delle altre Beh sì Certo Vorrei fare un appunto Mi spiace Vedere Il mio La mia Ex squadra Il Villagrande Relegata Nell'ultima posizione Ma spero Che si Si risolle Che si rimetta In carreggiata Ma come te Lo sperano anche Che abbiamo Qua Al di là Del vetro Perché ci sono Tifosi Di Villagrande Sai a chi Mi riferisco Alla nostra Roberta Che in regia Che salutiamo Tra l'altro Sì sì Tifosissima Del Villagrande Chiaro che L'ho vista Un pochino Abbattuta Anche ieri Sì sì Ma io Spero vivamente Intanto Ne approfitterei Per salutare Anche Marcello L'ho seguito Prima Avete parlato Di Di Diardo Avete parlato Di muoto Ci aspettiamo Che parliate Di Carling L'ha detto Non approssimare Che parliate Di Carling Ah Carling Non avevo capito Avevo capito Di carne Insomma No Vabbè La carne Possiamo Parla anche La domenica E anche Di Cullurgione Allora Stavamo dicendo Secondo voi Domanda per tutte e due Le seconde Le seconde In classifica Chi vedete Meglio Matteo Allora Se mi parli In generale L'ho voda Parte in prima posizione Diciamo così Se riuscite a fare Il risultato positivo Contro il Baristardo Sarebbe inoltre Una spinta In più Proprio per occupare A maggio La seconda piazza Se mi parli Di Oliastine Sì Oliastine Io andrò Contro Correnze Io vedo Non la Baunese Pensi L'Ulaçai L'Ulaçai Io vedo L'Ulaçai Dalle prime Quattro posizioni Sì pensi che Perché sto guardando Adesso la classifica L'Ulaçai C'ha 20 punti Mentre la Baunese Ben 7 in più A tre lunghezze Dalla Tutta vista Gattellì Pensi Infatti È una scommessa Quella Che sto attuando Sì eh Ne riparleremo a maggio Ale invece Tu Vedo L'Ulaçai Vedo L'Ulaçai Prima della Baunese Sì sì Ah E invece Ale Ale Ulaçai Cosa dice Allora intanto Scusateci Ma stanno portando La pizza Vi stanno portando La pizza Sì sì Ah ecco perché Io ho capito Carne prima Forse vi siete sbagliati La fame L'appetito Fa brutti scherzi Allora io Guardo la classifica Anche come rosa Le ho gli astrine Io Punterei Un euro Sulla Baunese Un euro Sulla Baunese Ho tanti amici là Beh vabbè Non è che lo dobbiamo fare Per amicizia Perché No 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 Mi approfitto È un punto in giù Gianni Gianni Ale Amici ovunque Poteva dire Villagrande Poteva dire Yersu Poteva dire Cardedu Adesso Baunese E vabbè Insomma non so Forse gli piace Forse gli piace La giocare in altitudini elevate Ecco dai Quindi comunque Comunque a parte gli scherzi A parte gli scherzi La cosa secondo me È la più attrezzata Quale La baunese Sì la baunese Assolutamente Sì Cioè l'hai vista giocare Oppure stai guardando solo i numeri No no Io purtroppo gioco la domenica Ecco infatti A giudicare dai numeri Guardare il pallone Che non è Sì la baunese Purtroppo non ci sto riuscendo Abbastanza Di dare gol Però Ho una scelta della rosa Quindi io Punto sulla baunese Ho capito E l'atletico Lozzorai Come lo vedete Di Mr. Foyce Lozzorai Allora Ieri Appunto ha perso nel derby Con la baunese Un'altra Gocchetta Di Giovanni Nottega Domenica prossima Va a Dorgali Per uno scontro diretto Ecco Entra certa Eh La Dorgalese Sembrava Eh Lozzorai Deve solo credere Cinque di più Anche perché Alla seconda categoria Sì No Per una squadra Come l'Ozzorai Potrebbe Insomma Essere Un danno grave Insomma Si salvi chi può Ecco Eh beh Anche questo è vero Perché La vedo tosta Ma è così Secondo voi Deve fare Dimmi Che Questi campionati Sono molto Un incognito Nel senso Purtroppo Ancora con Il covid Sì va bene Allora La domenica È imprevedibile Si ritrovi a non avere Gli elementi importanti La domenica Certo Si prepari la partita Con la rosa E poi la domenica La punti Con l'antigio Certo Non sono Non sono Non è solo In questa categoria Comunque È un po' Tutta la categoria Ovviamente Tutto il calcio italiano Che è stato provato Dimmi Esatto È stato provato Da questa situazione Perché tutte le domeniche Tra l'altro Se andiamo a considerare Certo Se andiamo a considerare Nel 2022 Capita Capita Quello che è successo Che è successo Certo Quando io ero ragazzino Io andavo a scuola Il sabato Il sabato mattina All'una Mangiavo al volo Mi facevo la borsa E salivo al campo La partita alle tre Formazione titolare Data dall'allenatore Inizia a riscaldarti Tu giochi qua Tu là Puoi attendere Quello che è forte No va bla L'arbitro non si vede E tu continua a riscaldarti Se l'arbitro non arriva Devi aspettare Quei 90-25 minuti Partita rinviata Tu Ragazzino Che ti piace giocare a pallone Tornavi a casa Arrabbiato E beh Io pensavo Che tutte queste cose Non potessero più Ritornare Invece io L'ottorari I ragazzi I miei ex compagni I miei amici Di Iertu Sono andati L'ottorari E hanno giocato Un amichevole Perché il signor Arbbi Non si è presentato Ora Si può arrivare A quel punto? Certo Sicuramente dovuto al covid Speriamo che sia Dovuto a questo Non alla poca serietà Non ci credo No Non parlo di poca serietà Certo I pochi seri Siamo noi Che parliamo Dal mattino Esatto I pochi seri Siamo noi C'è Però La frecciatina Nasce nel momento in cui La maggior parte degli arbitri Sono a torto lì Cosa ti vuole A fare una chiamata Vai all'ottoraria All'allustrare Questo dico io Ho capito Sì Matteo verrà Quellenato Per questa cosa No ma vabbè Qualcuno deve pur dirle le cose Ecco Se non sono gli stessi Diretti Direttamente Addetti ai lavori Dobbiamo essere noi Ecco Così Sì esatto Dai microfoni di Radio Stella Le dici E poi Si devono dire Dico quello che penso Voi mi date l'opportunità di parlare Quindi senza offendere nessuno Ci mancherebbe Però era un assunto Che volevo Volevo far notare Certo Questo È così Così Funzione Cioè ma purtroppo È difficile anche Come dire Cercare delle soluzioni A questa cosa qua Perché Sono talmente tanti Ci ha scombussolato la vita Da tutti i punti di vista Cioè nel senso che Il calcio gli ha cambiato C'è l'arbitro Che poi Non ci si pensa Magari l'arbitro si è preso È rimasto positivo Anche se Non ha niente Però deve stare a casa Non si è pensato Che ci sarebbe potuto essere il ricambio Ti interrompono la partita Perché Cioè non ti rinviano la partita Perché C'hai due positivi E quindi non puoi venire a giocare da me Insomma Ragazzi È una situazione Io spero che cambi Perché Magari Adesso Non vorrei essere Entrare in discorsi Che per noi Momentaneamente Non ci interessa Naturalmente Non abbiamo Non abbiamo la presunzione Di Paragonarci La serie A In serie A L'arbitro X È malato Certo Arriva all'arbitro Y Subito Non si chiede questo Si chiede almeno Una telefonata Le società coinvolte Ragazzi C'è il rischio Che scendi A te A voi Punto Comunque Io direi anche Giudiamo la parentesi Allora Vi interrompo un attimo Vi interrompo un attimo Perché Dalla regia Mi stanno Sollecitando la pubblicità Ci sentiamo tra poco Tutti per gli acquisti Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Michelin Godier Bridgestone Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale estivo con deposito O meglio quattro stagioni? Oggi il cambio con me è diventato un quiz Non farti prendere dalla fretta Senti chi le gomme le cambia ogni giorno Paolo Pirac pneumatici Oltre la riparazione e la convergenza Tutti i servizi per scooter, trattori e mezzi pesanti Località Frageretto Zona industriale Barisardo Infoline 392 092 90 05 Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Eccoci nuovamente insieme 20 e 11 Siamo sempre su Radio Stella Si è aggiunta una persona Siamo sempre in collegamento con il Bar Stella Ovvero sia con Ale Usai e Matteo Corona Ci siete ancora spero, sì? Eccoci, eccoci Eccoci qua Perché dobbiamo continuare a parlare di calcio Adesso vedrete che la zoomata che farà la regia Perché è arrivato un altro ospite in studio Abbiamo portato niente poco di meno che il presidente della squadra Diciamo più importante della città di Tortoli Ovvero sia l'US Tortoli Abbiamo il nostro presidente che si chiama Andrea De Murtas Della classe 1988 Buonasera Buonasera a tutti Giovanissimo Saluto Andrea Saluti ad Ale e a Matteo Quindi vi conoscete? Sì, 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 ci conosciamo Non c'è bisogno di fare convenevoli presentazioni Dicevo 88 Una bella classe Tra l'altro il nostro editore mi pare che è poco etaneo Siamo cari amici da quasi 30 anni Quindi diciamo da sempre Cresciuti assieme Scuole assieme Dalle elementari Quindi diciamo che lo conosco abbastanza bene Anche perché viviamo a 20 metri di distanza Quindi ci conosciamo bene Hai capito? Ecco perché è riuscito Dicevo Oh, il presidente del Tortoli Sì, sì Ma Andrea Sei mai riuscito a portarlo almeno appena appena a Tortoli A l'USAio o no? No, va bene Ma io Io ci sono di recente Ale giocava quando io E' iniziato a giocare Che io forse ero ancora negli esordienti Quindi Va bene Ah, ok Non c'è bisogno di dirlo Per rimarcare l'estate Ma è un vanto questo È un vantaggio Avete domande particolari da fare? Al presidente L'unica domanda che posso fare è A quanti punti volete arrivare? Insomma, il campionato Ma che domande sono da fare? Oh, vabbè Basterebbe Basterebbe un punto in più della seconda Poi quanti punti sono Vero Sono meno importanti È una rettossa diplomatica però Intanto è arrivata la pizza È arrivata la pizza Buon appetito Allora Io vorrei Dico Una cosa Andrea Questa posizione della presidente ti ha fatto invecchiare Ti vede un po' invecchiato Sì È stressante? È troppo È lo stress È lo stress Non mi aiutano poi È stressante È stressante essere presidente È sicuramente un impegno Un impegno importante Ma non la presidenza in sé Il ruolo dirigenziale Si è svolto comunque in un certo modo Diciamo anche magari in categorie Come la promozione dell'eccellenza O più su È ovviamente un impegno abbastanza gravoso Però Mi ho la fortuna comunque di avere un buon gruppo Anche a livello numerico Oltre che Che a livello qualitativo Quindi insomma Ci suddividiamo i compiti E poi Diciamo che magari nei momenti in cui lo si svolge È sempre un po' Un po' pesante Esatto Però quando Diciamo i mesi di pausa invece Ti viene un po' a mancare Il calcio Quindi Va bene così Come si diventa presidente del Tortoli? Eh Per passione Cioè Hai fatto calcio prima di Sì sì Ma sempre a livelli molto bassi E poi poco Perché Poi tra impegni di studio Eccetera Non Diciamo che ho dato poi la priorità ad altro E poi non c'erano chissà quali qualità tecniche Per poter Per poter arrivare chissà dove A parte tutto Uno dice Insomma Non è che C'era Sei diventato presidente del Tortoli Sì sì Guarda Non è un ruolo così ambito No 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 Diciamo come sei diventato Perché è una passione Sei appassionato di calcio Quindi Oppure ti hanno chiamato Oppure avevi dei soldi E hai comprato il Tortoli No 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 Soldi sempre pochi No allora diciamo che Come è iniziato Allora io prima di tutto Sono Sono stato già in dirigenza Sempre Ovviamente Per passione Del calcio Del calcio regionale Del Tortoli in particolare Sono entrato in dirigenza Con Già i tempi della precedenza di dirigenza Quindi con Con Qualbu Con Giovanni Seguivo altri aspetti Poi c'è stato Ci sono state due retrocessioni consecutive Dalla D all'eccellenza E dall'eccellenza alla promozione E quindi diciamo che un po' in quel momento Mi era passato Un po' l'entusiasmo Comunque erano stati due anni un po' pesanti Comunque le deduzioni sportive Si sono fatte sentire E avevo un po' deciso di mollare Come del resto poi tutta Tutta quella parte di dirigenza Che di fatti se n'è andata E' successo che hanno preso in mano Hanno deciso di prendere in mano La società Dei ragazzi Sì Sì ragazzi Uomini giovani Meno giovani Insomma Che fino ad allora si erano occupati Sempre di settore giovanile Tra questi c'è un certo Marco Lai Si c'è Marco Che è stato presidente E' uno di quelli che conosco Si è stato presidente Il primo biennio C'è Antonio Manca Sandro Lai Fabio Marrunchetto Insomma ci sono un po' di persone Ora non li elenco tutti Perché ci perderemo un po' di tempo Che comunque noi li salutiamo Assolutamente Li ringraziamo anche per l'impegno Mi hanno chiesto una mano Perché comunque io fino a quel momento Ero stato l'unico che si era occupato Un po' di quelle che erano le questioni Della prima squadra Loro avevano fatto solo settore giovanile E quindi diciamo che poi Non me la sono sentita neanche di dirgli di no Perché c'era un progetto poi di ripartenza dalle basi Ed è iniziato così I primi due anni è stato Marco Presidente Io ho fatto direttore sportivo E poi abbiamo deciso di fare in modo Che un po' si ruotasse in questa carica Infatti io lo specifico sempre Una carica pro tempore per fortuna Beh è un po' come tutte le società di zona No ma poi secondo me non è importante Chi è il presidente Secondo me è importante che ci sia un buon gruppo Di persone che comunque si aiutino Si diano una mano a vicenda E questa rotazione diciamo che abbiamo un po' inserito Nel nostro statuto Insomma nei nostri accordi È anche un modo per responsabilizzare un po' tutti quanti Quindi diciamo che adesso sono io Ma probabilmente l'anno prossimo non lo sarò più E via dicendo Però l'importante è che il gruppo poi rimanga solido E i compiti poi alla fine ce li si divide Perfetto Io devo fare una comunicazione tecnica alla regia Non abbiamo più monitor Quindi non so come mi devo muovere Andiamo avanti Gli amici del Bar Stella hanno qualche domanda particolare A livello societario da fare al nostro amico Andrea? Io vorrei chiedere ad Andrea Una curiosità Per quello che sto io Da ieri Io sono di ieri E' vero che c'è una sorta di collaborazione con gli amatori di ieri? Sì 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 è vero E' vero Perché Insomma avete passato a parecchi giocatori Sì è stata una delle società con la quale abbiamo fatto più Più operazioni Tra virgolette Sì sono Ok Sono stati mandati vari ragazzi Ma allora dire il vero Noi bene o male abbiamo Abbiamo la fortuna di avere comunque un settore giovanile molto importante Quest'anno soprattutto abbiamo raggiunto quasi 300 iscritti Quindi Quando bene o male poi terminano il percorso Si affacciano alla Juniores C'è un po' una scrematura tra quelli che poi sono Sono in grado magari di fare un campionato già di promozione Oppure hanno bisogno di fare un'esperienza magari in una categoria inferiore E andare a giocare insomma Sì di andare a giocare certo E questo è il motivo per il quale comunque poi mandiamo molti dei nostri ragazzi Quest'anno all'Amatori Iersu ma anche alla Castor Anche all'Atletico Lozzorai Li abbiamo mandati all'US Lozzorai a suo tempo Li abbiamo mandati insomma in varie parti In varie squadre dell'Ogliastra comunque Quindi Andrè spattiamo il tabù Spattiamo il tabù che tra Castor e Tortoli non corre buon frango Allora No assolutamente Bisogna sfatarlo questo tabù Assolutamente No no Non c'è nessun tipo di Di vicinità Tortoli volete vincere due campionati Il vostro è quello di seconda del Gironi D Dai No ma la Castor Quest'anno mi pare abbia 3-4 giocatori Allora non ricordo di tesserati con noi in prestito Però insomma la Castor poi ha fatto una bella squadra con giocatori importanti Quindi anche con la Castor corre buon sangue Nel loro piccolo vorrebbero fare quello che sta facendo il baristardo in prima ecco Perché a nomi è la super favorita del girone Però Insomma Il perdas è tosse comunque Nel Sarrabus c'è l'Accademia Ma queste squadre i campionati vanno giocati e vinti Secondo me Sì decisamente E voi lo spareggio con la Sarrabus dove ce l'avete? A Oristano o a Tortoli il ritorno? Il ritorno a Tortoli Eh buono Sì 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 Speriamo di arrivarci almeno con queste distanze Chiaramente siete a 3 punti o sbaglio? Siamo a 3 punti perché poi tra l'altro l'ultima domenica abbiamo pareggiato entrambe Quindi è rimasto tutto invariato Sì Questo è domenica scorsa Sì ieri Parliamo un po' della partita di ieri Contro il Buduzo Dico bene? Sì sì a Buduzo 3 pari è una bella goleata 3 pari Avete rischiato da ciò che sono tutti Abbiamo rischiato tanto però Allora ce l'aspettavamo perché Buduzo Era una trasferta insidiosa Lo sapevamo già ma perché comunque Prima di tutto è una squadra che ha iniziato la stagione con ben altre prospettive Penso che loro erano una squadra secondo me allestita per stare nelle prime 4 posizioni Poi hanno preso qualche punto strada facendo Però è una squadra comunque di tutto il rispetto Con degli elementi di categoria Quindi già di per sé ci aspettavamo una partita difficile Poi oltretutto noi siamo andati con molti 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 indisponibili ieri Hai visto il vostro timpanaro? Sì era assente In panchina Sì è rimasto tutta la partita in panchina Ma stava male? Infortunato? È una contrattura quindi non abbiamo voluto poi rischiarlo Anche perché adesso poi c'è una serie di partite importanti Tra cui appunto quella con la Tarros Con la Macomerev Ma prima ce ne sono anche altre E poi c'avevamo anche altri indisponibili Avevamo 4-5 indisponibili Quindi comunque era una partita difficile Poi si era anche incanalata bene Perché abbiamo segnato quasi subito Poi però loro hanno reagito ovviamente Sono passati in vantaggio se non ricordo male Sono passati sul 3-1 anche Poi ha raddrizzato tutto Vi ha salvato Allora abbiamo fatto il 3-2 Con Cordari Che è un ragazzo che è arrivato a novembre Dal Villasimius Un ragazzo argentino E poi ha pareggiato Marco Boi Ma anche Marco Boi è arrivato nell'ultimo trimestre Marco Boi è arrivato anche dopo Adesso? A dicembre A dicembre è da Villasimius Anche lui Lui è il liastrino Di Tertenia Ed è al terzo gol in tre partite Quindi insomma Diciamo ha avuto un bel impatto Marco Boi è una garanzia Sì sì Allora vi devo interrompere un attimo Perché abbiamo i doveri Che ci attendono La pubblicità A tra poco Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Michelin Godiar Bridgestone Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale estivo con deposito O meglio quattro stagioni? Mmm Oggi il cambio gomme è diventato un quiz Non farti prendere dalla fretta Senti chi le gomme le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione e la convergenza Tutti i servizi per scooter Trattori E mezzi pesanti Località Fra Gerettu Zona industriale Barisardo Infoline 392 092 90 05 Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogli astrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco 20 e 24 minuti Siamo sempre su Radio Stella Sempre in compagnia degli amici del calcio E il presidente del Tortoli Andrea De Murtas E gli amici del Bar Stella Che ci sono ancora Sì? Ci siete? Certo Con i quali ci stiamo facendo una bella chiacchierata Perché vedo la confidenza Noi non ce ne andiamo Non ho capito Voi? Finché non ci cacciate Noi non ce ne andiamo Ah vabbè Per questo ci pensano dalla regia Benissimo Appena vi tagliano la linea Non c'è problema Se doveste dare fastidio Manco ve lo dicono Tranquillo Perché vedo Probabilmente anche loro La chiamata la paghiamo noi Matteo La paghiamo noi Ah ecco Da buonierzese Eh? No Io non ho detto nulla Ha parlato Ale Ah ecco Perché non Era convinto fosse Matteo Da buonierzese Mi fa buoni prezzi Dunque Stavamo parlando Della partita Di domenica scorsa Stavamo parlando Di questi Nuovi Innesti Che il Tortoli Ha fatto Nel mercato Se vogliamo definirlo così Di riparazione Che sono andati bene Sembrava quasi Sapevate che sarebbe Successo questo Quindi Cioè quando Ci speravamo Quando decidete Di prendere Di fare questi acquisti Tipo adesso Che c'erano Perché mi spiegava Il DS Dell'idolo Che fortunatamente Lui L'ha L'ha considerato Una fortuna Avere queste varie Aperture di mercato Oppure è solo un modo Per spendere dei soldi No ma guarda Sono utili Perché Comunque A seconda Poi Dell'obiettivo Che si sta andando A perseguire Le puoi utilizzare Per puntellare La rosa Poi Noi ad esempio Ora il mercato Ha riaperto Ed è aperto Fino a giovedì 10 Quindi tra un paio Di giorni Noi questa sessione Non la stiamo Praticamente utilizzando Però sicuramente Utile per chi Poi magari Deve puntellare qualcosa No ci sta Noi abbiamo fatto Qualche innesto A dicembre Però per il resto Comunque poi La gran parte Della rosa La vai a A comporre Nel mercato estivo Logicamente Beh sì Questo è vero Perché stavo pensando Scusa Cani Dimmi A tal proposito Vorrei chiedere A mia amica Andrea Cosa ha portato Marco Bui Allora È stata una Un'opportunità Nel senso che Abbiamo saputo Che Che se ne stava andando Da Villa Simeus Poi vabbè Io Marco Comunque Ci avevo già parlato Anche in estate E anche l'estate precedente Quindi insomma Era un Un obiettivo Già In precedenza Quindi Quest'anno Diciamo che Noi dopo la partita Con l'Arborea Abbiamo vinto In casa Con quella che Al momento Era la prima In classifica Abbiamo vinto Anche con un risultato Abbastanza Rotondo E abbiamo pensato Che fosse Il momento Per Cercare Di provare A stare su Quindi Hai avuto Poi l'opportunità Di portare Un ragazzo Come Marco Che è una garanzia Da un punto di vista Tecnico Vorrei vedere Tre partite Tre gol Ti faceva comunque Fare un salto Di qualità Importante Inoltre Rientra anche All'interno Di altri Di altri Canoni Di quello Che è il nostro Progetto Perché comunque È un ragazzo Gliastrino E quindi Diciamo che Era un'opportunità Da sfruttare In quel momento Guardavo Torniamo un po' Al calcio Giocato Guardavo un pochino La classifica La Tarros Ti saluta Lautaro Tarquino E Fabio Alai Ah grazie Salute Ricambio Arrivano i messaggi A quanto pare Allora Dicevamo Stavo guardando Un po' La classifica Dove c'è La Tarros Che ha 34 punti Il Tortoli 31 E la Macomerese Che non ne parliamo È là 28 punti Il prossimo turno Poi vedrà Il Tortoli Con la Bittese Che ne ha 11 Di punti La Tarros Con il Bonorva 26 punti Macomerese Con il Boudouzot Allora La domanda è questa Pensate che la classifica Rimanga Più o meno uguale Domenica prossima Anzi Lunedì prossima Quest'ora Staremo più o meno là Allora Sono tre partite difficili Esatto Tutte e tre Perché comunque Un pronostico Dai No No Pronostici no Però sulla carta Se uno prende la classifica Vede Magari la Bittese 11 punti Dicevamo Il Tortoli Gioca in casa con la Bittese È a vita facile Non sarà così Perché La Bittese Si sta giocando La salvezza Quindi verrà con Col coltello tra i denti Come suol dire E tra l'altro Ha una squadra Che secondo me Anche per quello che io ho visto All'andata Non è una squadra Da quelle posizioni Perché ha dei giocatori Magari Ormai con Sto parlando Della Bittese Che giocherà contro Di noi domenica Ha dei giocatori Come Cadau Come Talanas Come Calvisi Che magari iniziano Ad avere qualche anno Sulle spalle Però Insomma Sono dei giocatori Che nella loro carriera Hanno fatto Tantissime presenze Tantissimi gol Insomma Non sarà facile Poi le altre due In ogni caso Per il Stortoli È una partita Da non fallire Assolutamente Certo Beh poi in casa Maggior ragione Sì Poi le altre Saranno difficili Lo stesso La classifica Non lo so Allora La Tarros È una squadra Che è partita Con Aspettative di vittori Ci ha creato Uno squadrone Voleva vincere Ma voi A proposito Voi siete partiti Con l'intento Di essere lassù Oppure È una cosa casuale Noi siamo partiti Con l'intento Di fare un campionato Di alta classifica Quello sì Poi Abbiamo Comunque Strada facendo Un po' Siamo accorti Di quelle che erano Le nostre potenzialità Rispetto anche Al resto del girone Quindi Anche quegli acquisti Di cui parlavo prima Sono stati fatti Nell'ottica Di cercare Di stare In quelle posizioni Però Devo dire Che per Per Rosa Per profondità Della Rosa Per capacità Anche di spesa La Tarros Secondo me Ha qualcosa In più Di tutte le altre Poi Questo non vuol dire Che per forza La Tarros Dovrà vincere il campionato Però Sì ma che poi Effettivamente I numeri Siamo là Se voi avessi approfittato Ieri Ma guarda Ieri Ieri ci sta Il pareggio No ma dico nel senso Perché anche loro Se non vado in rata Hanno pareggiato Con una che più o meno Aveva gli stessi punti Del Buduzo Sì ma Io devo dire Che a noi Non mancano i punti Di ieri A noi ci mancano A noi fondamentalmente Ci mancano tre punti Che sono quelli Che abbiamo perso A Sadali Perché lì È stata una partita Nella quale Non siamo proprio Scesi in campo Con una squadra Che secondo me C'eravate con le gambe Ma non c'eravate con la testa Non siamo proprio Scesi in campo Era una Sì C'eravamo soltanto Fisicamente Perché poi Magari eravamo anche Riduci da una partita La settimana precedente Nella quale Avevamo battuto 5 a 1 L'Arborea Che in quel momento Era prima Non lo so Siamo andati in campo Un po' Può capitare De motivati E succede Forse interromperti Un secondo Certo Io ho giocato Tre anni a Sadali Ti posso assicurare Quello è un campo Molto difficile E non ci perderà Solo il Tortoli E posso aggiungere Una cosa io Ci hanno fatto anche Un favore Perché poi La settimana scorsa Hanno battuto La Macomerese Quindi Esatto Sì allora Il Sadali è una squadra Un po' particolare Potrebbe battere Chiunque E perdere Con chiunque Con l'ultima in classica Sono imprevedibili Questi anni Gli affrontati L'hanno fatto impazzire Sono imprevedibili Quindi capisco Anche Si può perdere A Sadali Perché sono imprevedibili Certo Ebbè Sono quelle squadre Poi hanno comunque Sempre quel gruppo Cioè Ale Sono sempre gli stessi Che fa la differenza Bruno Piga Andrea Pilia Adamo li mette bene in campo Poi la gripa Sì poi ce l'avevamo In pancia Sì 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 Ferraro Uno Piga Sì sì Sempre loro Sono quelle squadre Tra l'altro hanno preso Placentino da poco Che comunque Esattamente L'ho preso Bebo Palma Sinistesa Sì E anche loro vogliono salvarsi All'estate Per cui Mi sembra giusto E insomma È un mondo difficile Come diceva qualcuno Un pronostico vostro Ale Ma perché Che riguarda La vincitrice Del campionato No Per domenica prossima Cioè voglio dire La stessa domanda Il tortolino Giochiera due punti Alla La tarro Ufficiale Sì sì Cioè Proprio Quanto punti Non ho capito Ho detto Quanto ci punti Su questa Questo Ma io in tasca C'ho 10 euro 8 euro e 50 8 euro e 50 Devi costare al massimo 2 euro Per pagare il conto Va bene Manca una pizza Non è che dice 2 euro sulla vittoria Del tortolino Contro La bittese Senza problemi La tarro Sinciamba Vedrai Te lo auguri Allora io dico che Il tortolino Non può sbagliare Nel senso che Le paese in casa Vanno vinte Ha fatto valere Il fattore campo Però ha anche ragione Andrea Le partite vanno giocate E poi Nella formazione La verità Ci sono vecchie volpi Bisogna stare Veramente a Però dai Io 3 euro sull'uno Lo metto Uno Gol gol Dai C'è che qua Veramente Effettivamente Non ho capito Chi è di Ierzo Tra voi due Se te o Mattia Matteo scusami Io sono di Villano Saluto Un paese Forse siete pareti Salutiamo anche noi Io ti posso assicurare Che sono uno spendacione Quindi Non sembrano Niente di Ierzo Ecco appunto E' questo Che sembrava Che fosse Abbiamo questo tabù Sembrava che fosse Non possiamo più dare tanto Se dobbiamo pagare il conto Certo Poi se vi fanno pagare La telefonata Anche qua Eh sì Va bene Ragazzi Mi sa che siamo anche quasi Oltre l'orario Di programmazione Siamo oltre i 5 minuti fuori Dalla norma Adesso non so cosa fare Se salutarvi così O farvi staccare direttamente La linea dalla regia Comunque no A parte gli scherzi Poi mi rifaccio Cioè chiamiamo Roberta E gliene diciamo qua Dai No va bene così Ci è stato un piacere Come al solito Va bene Certo che è stato un piacere Anche per noi Anche per noi Qua dallo studio Poi con Matteo Ci risentiremo domenica Per le solite Radiocronache Amatori bariese Amatori bariese Sì Sì Ciao Andrea Ciao Andrea Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao e buona serata Buon fine settimana Anzi buona settimana Grazie Altrettanto a voi ragazzi Ciao 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 Bene Come dicevo Siamo giunti al termine Sono le 20 e 37 minuti primi circa Siamo ancora in compagnia di Andrea Di Murtas Il presidente dell'US Tortoli Che salutiamo E ringraziamo per aver partecipato al nostro programma È stata una bella chiacchierata Assolutamente Grazie a voi Mi auguro che sia stata altrettanto per voi Assolutamente sì Soprattutto per chi ci ascolta Speriamo Speriamo Soprattutto per loro Come si dice a Tortoli Forza US o Forza Tortoli? Allora sì No Entrambe Entrambe Forza US è rimasto lo storico denominazione iniziale Quindi va benissimo Ma adesso è calcio Tortoli o? Sì Sì Tortoli Calcio A Tortoli Calcio Sì sì Però rimane nel Soprattutto nell'idea Sì sì L'US L'US È sempre stata L'US Sì sì È anche bello È anche bello che sia così Tra l'altro Poi Queste sigle vanno e vengono Va bene Noi ci congediamo Degli ascoltatori E anche telespettatori Perché chi vuole seguirci Avrebbe potuto farlo Via internet Con i nostri social E ci risentiremo Personalmente Ci risentiremo domenica Con Stella Sport Poi lunedì Per il solito approfondimento Come quello odierno Alla prossima Ciao Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco Michelin Godier Bridgestone Yokohama Quale scegliere? Nuova o ricostruita? Cambio invernale estivo o con deposito o meglio quattro stagioni? Mmm Oggi il cambio con me è diventato un quiz Non farti prendere dalla fretta Senti chi le gomme le cambia ogni giorno Paolo Piras Pneumatici Oltre la riparazione e la convergenza Tutti i servizi per scooter Trattori e mezzi pesanti Località Fragereddu Zona Industriale Barisardo Infoline 392 092 90 05 Fuori gioco L'appuntamento sportivo del lunedì Con i protagonisti della domenica sportiva Ogliastrina Ogni lunedì alle 19 Fuori gioco